Allora, quest'anno abbiamo avuto una stagione abbastanza soddisfacente, è chiaro che siamo partiti da un livello che giustamente dovevamo migliorare. La società ha intenzione di procedere nel senso del settore giovanile con miglioramenti, con un'attenzione diversa da quella che c'è sempre stata. Io ho il supporto dei dirigenti, del direttore sportivo soliano, di tutti, per cercare di portare le nostre squadre ad un livello che sia accettabile e che ci sia comunque la prospettiva di formare qualche giocatore, perché alla fine l'obiettivo di tutti i settori giovanili è quello di fare risultati, però i risultati contano, sono importanti perché determinano che ha un buon livello di qualità, però il fatto più importante è quello di produrre i giocatori, produrre nel senso di dare qualche giocatore alla prima squadra e alla rosa della prima squadra. Quest'anno uno dei motivi di soddisfazione per tutti noi, per la società e per il settore giovanile, è che un ragazzo abbia debuttato in Serie A, Don Sa, che storicamente è il secondo giocatore più giovane che ha debuttato nella Sverona. Il primo è un certo Fernando Gasparini, non so se voi vi ricordate, giustamente da una ricerca del nostro Fabrizio, è il secondo giocatore più giovane che ha debuttato nella storia del Verona. Questo per noi è motivo di soddisfazione, come motivo di soddisfazione è anche il fatto che altri tre ragazzi siano andati in panchina, abbiano seguito la prima squadra nella turna brasiliana. Per me questo è il fatto più importante. Io sono contento di questa stagione, anche se difficile verrà andando avanti perché noi vorremmo migliorare la situazione che abbiamo sviluppato quest'anno. Abbiamo fatto dei buoni risultati in primavera, abbiamo fatto dei buoni risultati in primavera ma vogliamo ancora migliorare. Avremo la conferma di Mr. Pavanel alla primavera, cosa alla quale io tengo particolarmente perché lo ritengo un allenatore su queste categorie, sui giovani, molto importante nel nostro settore giovanile. Per gli allievi nazionali avremo una novità che si chiama Andrea Vitali, un ragazzo giovane molto appassionato che ha fatto le sue esperienze nel Monza, nel Varese, nella Provercelli. Agli allievi regionali Davide Pellegrini e ai giovanissimi nazionali avremo ancora Leonardo Ventura che ha fatto un grande campionato con i giovanissimi nazionali, purtroppo forse l'unica punta di rammarico. Siamo andati oltre quello che ci aspettavamo, però eravamo arrivati proprio a un centimetro da poter fare le finali nazionali a otto, che sarebbero stati motivo di grande gioia per tutti noi. E quindi questi saranno gli allenatori che ha l'attività agonistica. Nell'attività di base saranno presso poco riconfermati tutti, però adesso è ancora un po' prematuro perché nel camp e queste situazioni. Comunque questi sono gli allenatori che condurranno gli giovanili del Verona al prossimo anno.